Salve a tutti ragazzi, bentornati qui su Quei Due Sul Server 2 con Max and the Curse of Brotherhood. Secondo me stiamo per finirlo, adesso non vorrei portarmi Yella da solo, ma secondo me questo è l'ultimo episodio, o giù di lì, al massimo ce ne sarà un altro. Allora. Dunque, qui c'è da rompere. Allora, vediamo, spacchiamo qui, poi facciamo volare il nostro fratello nel vaffanculo. No. Dobbiamo farlo andare a morire. Yes. Vabbè, tu devi morire. Bene. A questo punto, secondo me, noi dobbiamo andare sopra. Quindi, via questo getto d'acqua, il getto d'acqua ci dovrebbe portare di qua. Wow. Ok. Avevo ragione. Apriamo. Che cazzo succede qua? Non si capisce niente. Adesso verrà sparato qua sopra. Sì. Ok, con il ramo dobbiamo fare in modo... Fermi, eh. Viene sparato su. Ah! Pramo di merda. Ok. Dobbiamo essere tempestivi. Su. Là. Aspetti, buon uomo. Abbiamo sbagliato un po' tutto. Porca puttina. Ok. Oh, benissimo. Così. Qua bisogna essere precisi quando ti disegni, eh. Se no... Felix, poverello, va a finire per fratte. Ok. Ok. E' troppo tranquillo questo posto. Troppo tranquillo. Qua. Oh. Oh. Una bomba. Aspetta, aspetta, aspetta. Aspetta. Merda, 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 merda. Oh, oh, oh. Ammazza me, ammazza me. Ok, a posto Allora, ragioniamo Qui che cosa abbiamo? Ha un ramo, quindi Suppongo che sia sufficiente Sparare No, Felix, Felix Ok L'importante è che Non lo uccida Ecco, adesso l'ho ucciso io Ah, non muore, perfetto Creo un pezzo di legno L'ho sposto In modo tale da Ecco Ecco Giuda All right Adesso mi rimetto qui che sono al sicuro Almeno spero di essere al sicuro In fondo questo Vaffanculo, ho sbagliato L'ho rotto Vabbè, però avete capito qual è Diciamo il senso di ciò che sto facendo Il punto è che non mi riuscirò mai più Di azzeccare il timing Di questa cazzo di parte Dai, su Esplodete Rompi i coglioni Dobbiamo infondere Con questo potere Ecco E adesso da qui Ci seguiamo questi due stronzi Yes Bene Ora Una volta Una volta uccisi qui due Possiamo ragionare Su altri fattori Tipo Credo che Felix Deba rotolare Giù da questo Pendio Poi dobbiamo Portare Felix qua Dio santo Che casino E dobbiamo Dobbiamo spingerlo Quaggiù Così Mamma mia ragazzi Mamma mia La potenza del ragionamento A mente lucida Oh Mustaccio probabilmente sapeva Che saremo scappati Con Felix dentro la palla Perché ha preparato Questi bellissimi meccanismi Apposta Per Per far funzionare La nostra evasione E la bellezza E l'insensatezza Dei platform Tutto sommato Ci possiamo stare Questo ci porta qui Sì 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 Ottimo Ottimo Veramente Dobbiamo raggiungere Il nostro fratello Perché non so Dove cavolo Andrà quella palla Ok Perfetto Madonna Che casino Bene Come Oh come Ce la giochiamo Troia E adesso E adesso No Tico E adesso Allora Fermi tutti Qua bisogna essere Di una raffinità Incredibile Ok Ok Spendiamo questa qua sotto Sì 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 Sono stato bravo Sono stato bravo All right Adesso No No Vabbè E' veramente E' veramente difficile Sta parte Però è bella Cioè Spacca cranio Come piace a me Non nel senso che è tanto spacca cranio Nel senso che lo è al punto giusto Ok Ok Tipica sequenza in cui dobbiamo scappare Perché la bestia Se no Ci Inchiappe Così La cosa mi dice Che ci sarà da correre Proprio Malamente Oh 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 Meno male che si è rincoglionita Non so come abbia fatto a rincoglionirsi Ma si è rincoglionita Tosto ragazzi Tosto Allora Allora, fin qua Facciamo di su per giù Ci arriviamo con le nostre forze Mamma mia l'ansia Madonna l'ansia Mamma mia No Dovevo colpirlo un'altra volta Dimmi che non mi fai Oddio, oddio, oddio Quanto è tosto Allora, ricominciare da qua Tutte le volte è un incubo vero e proprio Non lo so anche io come ho fatto o male ho fatto All right Calmi, eh Così Così Eh, ho preso il tempo, dai Questa parte ormai ce l'ho Devo tenerlo indietro con questi colpi Semplicemente Corri Max, corri Max, corri Max Ma non ci basta Che cazzo ci passa Ok, ok, ok Calmi Calmi Come passo da qui? Non c'è niente che posso Ok No 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 Dimmi che ricomincio almeno da qui Almeno da qui Ok Bella 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 C'è qualcosa che non mi torna Prima mi ha fatto vedere Quel robo verde là sopra Adesso non so perché non me l'abbia mostrato L'ho fatto andare giù È andato giù Sì Fammi leggere che cazzo dice Maledetta Xbox Oh, sì Ragazzi Madonna lo sapevo Lo sapevo Lo sapevo che erano cazzi di questo tipo qui Mi ricorda Orient Blind Forest Vede quelle parti in cui bisogna scappare da acqua barra lava barra tutto il resto del fottuto mondo Mamma mia l'ansia L'ansia Dai Sali Dai Max Cazzo Sì Con Giuda No Madonna Che casino Veramente un casino Eh, meno male che hanno fatto sta cosa Che Un minimo Scusate se non parlo ragazzi Sì, non parlereste nemmeno voi ve lo assicuro No C'è la vu Mamma mia Mamma mia Guardate Sto gioco è Bello 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 Anche queste parti qui che possono risultare molto frustranti E vi assicuro lo sono Hanno una Gran bellezza Sì, sì, sì Portami su Cazzo Anzi Vai Manetta Manetta No No Che cazzo devo fare Ok Meno male Quindi Quindi Esattamente io cosa dovrei Credo di aver capito Ok No E dai Vabbè comunque devo disegnarmi il percorso Con tutta la mia bravura da D'affanculo Non devo sbagliare niente La torre Ma qui i capitoli si susseguono con una velocità pazzesca Bellissimo però Mi sta piacendo da morire Va bene Questa torre ce la facciamo nel prossimo gameplay Perché sono uno stronzo E mettiamo magari Vabbè vediamoci la Cassin E poi ci facciamo la torre Ecco qua Alla prossima